Lunedì 8 febbraio, buongiorno a tutti e ben ritrovati cari telespettatori, questa è la rassegna stampa Occhio ai giornali che come sempre apre l'informazione su Fanotv, alle 7.30 siamo in diretta e poi naturalmente ci sono le repliche che vanno in onda in vari orari della giornata ma anche sul sito internet c'è tanta gente che ci segue a un'occhiata, quando uno ha tempo si dà un'occhiata soprattutto all'estero soprattutto fuori dalla città. Allora cominciamo dal santo del giorno, oggi è una santa come vedete una santa di colore, è del Sudan, parliamo di una santa che è morta nel 1947, Giuseppina che nacque in uno sperduto villaggio del Sudan, Bakhita, è una bambina di colore che approdò in Italia dopo vicende assurde che ancora oggi si ripetono, addirittura pensate a 7 anni venne rapita dai mercanti di schiavi che più volte la vendettero nei mercati, alla fine venne acquistata da un console italiano che la portò con sé. Il sole è sorto alle 7.18 e tramonterà alle 17.26 minuti. Vediamo il tempo che fa per la giornata di oggi, oggi avremo un cielo inizialmente nuvoloso con diminuzione della nuvolosità nella seconda parte della giornata, avremo qualche breve e debole piovasco nella mattinata nel settore settentrionale della regione. Poi domani, martedì 9, domani si chiude il carnevale, domani è martedì grasso, avremo dalla serata deboli precipitazioni sparse più probabili nell'entroterra, il limite delle nevicate sarà attorno ai 1200 metri. Le temperature sono in lieve aumento nei valori minimi, massima invece in lieve aumento lungo la costa. Per la seconda parte della settimana sarà caratterizzata dal transito in successione di ingressi di aria di origine polare con alternanza di giornate piovose e temporanei miglioramenti. Allora, ieri il carnevale, carnevalone che è andato benissimo a Fano, tantissima gente città con tanta gente che è arrivata da tutte le parti, sia dalle regioni vicine ma anche dalle regioni più lontane a noi. È andato tutto bene, per fortuna ieri c'è stato il pienone, un'edizione internazionale, scrive il resto del Carlino, invia le Gramsci, invia tsunami di persone. Fano soccorso un altro anziano colpito al volto dal getto dei dolciumi, queste sono le fotografie, la gallery che pubblica il giornale questa mattina con il sindaco di Fano incontenibile, dice ho indossato il prototipo della nuova maschera del nostro carnevale, noi fanesi siamo capaci di divertirci. Questo prototipo di maschera, eccola qui, probabilmente verrà messa in vendita nella prossima edizione del carnevale, sotto addirittura gli alberelli di Natale, guardate che belli, gli alberi di Natale che tanto hanno fatto discutere qualche settimana fa, perché il Natale è ancora dietro l'angolo. Mille maschere, invece andiamo a Pesaro, mille maschere tra i grandi piccini, il miglior carro è quello di Santa Veneranda, perché anche nella vicina Pesaro c'è stato il carnevale, così come in tanti altri piccoli comuni in giro per la provincia. Pesaro, a Madonna di Loreto, il premio per la sfilata a piedi, ecco qui dunque il carnevale dei pesaresi. Andiamo adesso invece nella pagina di Pesaro e provincia perché a margine di un carnevale che è quello di Tavernelle di Serrungarina c'è stato un fatto di cronaca. Nulla a che vedere con il carnevale naturalmente, un ubriaco lancia un posacenere, un portacenere all'interno di un locale e colpisce un cliente alla testa. Il fatto è venuto al bar dello sport, il ferito è stato portato all'ospedale, sono arrivati i carabinieri. Pronto l'albergo di legno più alto d'Europa, resiste al fuoco meglio del cemento armato e verrà inaugurato a Pasqua per il nuovo Biorivage firmato da Filippetti. Ed ecco quindi un'immagine pubblicata dal giornale che mostra la struttura in legno dell'ex Biorivage. Sotto c'è l'ingegner Franco Vennarini, per alcuni arredi interni sono stati usati i tronchi raccolti a riva, questa è la curiosità che pubblica il giornale. Insomma guardate che bello che è tra l'altro questo albergo, bisognerà adesso attendere ancora qualche mese e vedere come verrà completato, quando sarà completato, come sarà. Allora il calcio, sul resto del Carlino abbiamo le due pagine come sempre dedicate alla serie di con il Fano che coglie l'ultimo atto, attimo 1-0 in casa contro la Mittermina, l'Aquila Granata artiglia tre punti nel recupero del recupero, sono punti preziosi naturalmente quelli conquistati dai Granata, decide Campitano Dari in mischia al termine di una gara involuta. Mentre sulla Vis, la Vis che vince 2-0 sempre in casa contro la Jesina, attira la Jesina nella bagarra Falomi e Costantino piegano i Leoncelli che nella ripresa restano in 10, Rosso ha fatica e mollano e quindi questo è il risultato 2-0 per la Vis. A Pesaro il Corriere Adriatico, la cronaca in primo piano, bandito solitario, rapina una sala giochi, il colpo è avvenuto in pieno centro, dammi soldi, ott'ammazzo. Poi arraffa 7 mila euro e scappa a piedi, rubano in una casa e si dileguano a bordo di un'auto di un Audi grigia. Intercettati dai carabinieri riescono comunque a fuggire. Anche qui il Carnevale, sul Corriere, Santa Veneranda e Loreto, le parrocchie al top del Carnevale, con il carro di Super Mario e con la mascherata orchestrando si sono aggiudicate la 59esima edizione della festa. Sempre sulla pagina di Pesaro del Corriere, incomodato d'uso, arriva la poltrona del Ministro Franceschini che regala alla città di Pesaro una sedia da barbiere della sua collezione che arricchirà Casa Rossini. Dalla pagina di Pesaro e provincia, da Pecchio, il deco al salmì del prete, il laborioso piatto diventa elemento d'eccellenza accanto alle birre. Poi si parla del carnevale al tartufo, perché a Fano si tirano i cioccolatini, invece vedete dal balcone ad Acqualagna, giustamente patria del tartufo, si lancia questo preziosissimo tubero, il lancio del tartufo del sindaco da casa Mattei. La pagina di Fano invece, tutto esaurito per il gran finale, il Carnevale chiude con i numeri della bellezza in 60.000 per 90 quintali di dolci. I numeri della bellezza sono 60 e 90, le curve delle donne, insomma dovrebbe essere così, giusto? Rinasce la tradizione dei tre veglioni in una notte, gran galà alla palazzina Sabatelli, la gluppa alla combattente e i giovani invece al pesce azzurro. Insomma tutte e tre queste serate sono andate, secondo quanto riferiscono gli organizzatori, tutte molto bene con un pienone dappertutto. Allora il messaggero, messaggero questa volta apre con le feste, fa un insieme, un minestrone di tutte quelle che sono le feste di Carnevale, naturalmente Carnevale a Fano la carica dei 60.000, a Pesaro vincono Loreto e Santa Veneranda, le feste ad Acqualagna un ricco oggetto di tartufi. Poi la città della musica muove i primi passi, il conservatorio Russini si allarga, inarrivano i primi finanziamenti, i primi finanziamenti obiettivo riconoscimento da parte dell'UNESCO. E poi nelle pagine interne invece le altre notizie, la cronaca, mezzogiorno di paura in una sala giochi, sono stati portati via 7.000 euro a mezzogiorno, un uomo con un passamontagna che lasciava intravedere soltanto gli occhi è entrato al Mister Game di Via Le Napoli, in zona mare a Pesaro. Un bandito solitario, forse senza armi, minaccia comunque il commesso e poi fugge con 7.000 euro. Lavori alla piscina per il Pentathlon all'Orizzonte, ci sono nuovi ritardi, il sindaco smentisce che il cantiere si sia bloccato ma potrebbe finire anche in autunno, stiamo parlando di una piscina a Pesaro. Addio invece, vecchi hotel, il Lido di Fano cambia volto, il salotto buono si trasforma, al posto del Vittoria nascerà un complesso di abitazioni, negozi e anche di parcheggi. Demolita la costruzione fattiscente di Piazza Amendola, al suo posto un condominio di lusso. Della cecca dice meglio poche strutture che lavorano bene piuttosto che vedere i turisti diminuire sempre di più. E dunque staremo a vedere e comunque benvengano questi alberghi che danno in qualche modo un po' di prestigio anche ad una città a vocazione turistica come quella di Fano, così come quella di Pesaro, come abbiamo già detto, vedete l'albergo di Filippetti in legno che è anche il più alto d'Europa. La città ricomincia dai gemellaggi, sempre da Fano sul messaggero. Il sindaco Seri ha ricevuto i colleghi inglesi, tedeschi e anche polacchi. A Fermignano invece pista da cross e si cerca l'accordo per l'acquisto. Il resto è tutto sport. E a proposito di sport, questa sera dopo lo speciale del Carnevale, che riguarda chiaramente l'ultima domenica, trasmetteremo l'integrale della partita del Fano contro la Mitternina con la telecronica di Catalani. Quindi appuntamento questa sera prima con il Carnevale e poi con la partita. La rassegna stampa invece finisce qui. Grazie per averci seguito e a voi tutti una buona giornata. Grazie a tutti. Grazie a tutti.